Sto per raccontarti una storia Osserva gli indizi Sto per raccontarti una storia Sto per raccontarti un articolato Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'autrice di un libro, lei si chiama Serenella Sindaco e il libro in questione è questo qui, si intitola La foresta delle luci. Oggi andrò a leggere il primo capitolo di questo libro, ma voglio innanzitutto introdurre la collaborazione e spiegare un po' a che cosa serve questo mio video. Infatti questo libro che ha scritto Serenella è disponibile sulla piattaforma Bookabook. Spero la conosciate già, se non la conoscete vi spiego in due parole di che si tratta. Bookabook è una piattaforma di crowdfunding dove gli scrittori possono pubblicare le proprie opere e raggiungendo un minimo di preordini possono mettere stampati i propri libri. Praticamente io vi lascerò giù nell'info box il link per preordinare questo libro di cui leggerò proprio oggi il primo capitolo in modo da farvi capire di che cosa si tratta e perché no stimolare in voi la curiosità di proseguire il racconto. Per chiunque lo preordinerà, Serenella ha messo a disposizione la possibilità di leggere per intero la pozza del libro. Poi potete preordinarlo sia in formato cartaceo sia in formato ebook che è molto economico. Scegliete il formato che più vi piace, quello che vi è più comodo per leggere e appunto potrete assicurarvi la vostra copia. Ovviamente si tratta secondo me di un progetto carinissimo non solo per via del valore del libro che ho letto e che ho trovato molto interessante ma anche perché è proprio il concetto che è proprio il concetto a piacermi moltissimo chiunque aderisca al Crosonting diventa parte attiva della pubblicazione e non solo acquista il libro per sé ma anche dà la possibilità a chiunque di vederlo nelle proprie librerie. Quindi grazie, grazie, grazie mille a Serenella, sindaco, per avermi dato la possibilità di partecipare a questo progetto. Adesso non ti resta che metterti comodo o comoda, indossare le cuffie oppure gli auricolari e ascoltare la mia lettura in whispering giù nell'infobox. Ti ricordo trovi tutte, 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 tutte le informazioni. Puoi anche contattare direttamente l'autrice. Ti lascio tutti i riferimenti del caso. Gli oggetti che ti ho mostrato non sono dei semplici trigger ma sono oggetti importanti che riguardano la trama di questo libro. Ti lascerò scoprire qualcosa proprio oggi apprestandomi a leggere il primo capitolo. E in ultimo, come al solito, prima di iniziare, ti lascio la possibilità di abbassare il volume per qualche secondo in modo da introdurre il consueto spot. E ci vediamo subito dopo. Un, cinque, quattro, tre, un, due, uno, spot. Dunque, il primo capitolo del libro è composto da 15 pagine. Io, nel frattempo, spegnerò le mie candele che si stanno sciogliando. La foresta delle luci di Serenella Sindaco Capitolo primo Piccoli cristalli di ghiaccio brillavano sulla neve illuminati dai raggi di un raro sole invernale. Il cielo, terzo e razzurro ingannava piacevolmente lo sguardo degli abitanti di Gottenland accendendo in loro una speranza di primavera. Ma la temperatura non lasciava dubbi in merito alla stagione. L'antico termometro a mercurio appeso alla facciata in mattoncini grigi del municipio segnava meno molto. Anna alzò sopra la testa il cappuccio della giacca a vento bianca e nascose il viso fra la bordatura di pelo caldo e morbido. Ispirata dall'atmosfera insolita pensò con desiderio a quando l'erba tenera e verde avrebbe preso il sopravvento sulla terra fratice d'inverno e le giornate si sarebbero finalmente allungate regalando luce ben oltre le tre del pomeriggio. Anna era una ragazza di 14 anni con i capelli lunghi color delle castagne una leggera francia sfiorava i grandi occhi verdi puri e curiosi che illuminavano il volto ovale e delicatamente abbronzato in qualsiasi periodo dell'anno. sapeva di possedere un aspetto davvero particolare per una persona nativa del nord Europa ma dai racconti di nonno Conrad che lei amava tanto ascoltare la tresnonna era di origini sudamericane e qualche traccia di DNA viveva orgogliosamente nei suoi tratti somatici lei invece era nata in quel grazioso paesino svedese che ora si apprestava ad attraversare con passo veloce per non tardare a scuola Gotenland per lei non aveva segreti conosceva tutte le vie tutti i sentieri che dall'orlo del paese si diramavano sul territorio pianeggiante caratterizzato all'orizzonte da una catena di colline ricoperte di apeti la cui detta più alta molto famosa nella zona raggiungeva i 600 metri Anna aveva una personalità socievole e gentile ma anche appassionata e con tanto senso della giustizia a volte quando le circostanze le suscitavano dubbi e confusione cercava per sé dei momenti di solitudine come un gatto che dopo aver girovagato tutto il giorno rischiando pericoli e annusando avventure necessita di starsene per conto proprio all'apparenza sonnacchioso ma in realtà assorto e medita a fondo ed ecco finalmente apparire in fondo al viale la sagoma della scuola un edificio basso ed esteso di colore ogra sulla porta d'ingresso principale droneggiava un grande orologio tondo le cui lancette segnavano le 8 e 28 Anna si mise a correre aveva solo due minuti per raggiungere il suo armadietto lasciare il giocone e lo zaino prendere testo e quaderno di storia ed arrivare nella propria aula nell'atrio il pitello vide sfregiare una nuvola bianca appena appesantita da uno zaino rosso e subito dopo una specie di torta al cioccolato con due belle ciliegie al posto delle guance era Olaf uno dei grandi amici di Anna Olaf era un ragazzino un po' in sovrappeso ma amava così tanto il cibo che accettava senza troppi lamenti qualche affanno in più durante le corse dello sport in quel momento era in ritardo quanto l'amica e con quel poco fiato che ancora gli rimaneva riuscì a chiamarla Anna ci sono anch'io lei aveva già raggiunto il proprio armadietto ciao Olaf dai che forse ce lo facciamo a non prendere la nota di demerito si si spuffò lui buttando nel suo il piumino marrone e arraffando appunti e libri un po' a caso ancora una corsa e i due si tuffarono in classe con lo stesso slancio di un centometrista a un passo d'altro quarto accompagnati da qualche applauso divertito da parte dei compagni Anna e Olaf si sorrisero dai banchi il professore di storia stava entrando proprio in quel momento nota evitata il prof Larsen era un tipo non troppo alto con un corpo magro e ossuto e dei movimenti a scatti che Anna associava a quelli di un merlo curioso ed agitato era molto tecnico ed asciutto nelle sue spiegazioni e quel giorno cominciò a parlare del periodo d'oro della spezia e Anna Olaf seduto nel banco parallelo al suo la stava chiamando con voce quasi inodibile cosa c'è? chiese lei altrettanto impercettibilmente nella fretta ho preso il libro di geografia invece che quello di storia fai vinta di niente rispose in un soffio sapendo che se il professore li avesse sentiti parlare non ne sarebbe stato affatto contento avete qualcosa di interessante da dire anche a noi signorina Lindgren e signor Johansson troppo tardi peccati no no ci scusi professor Larsen cercò di rimediare la ragazza ma intanto il merlo si era avvicinato ai loro banchi fermandosi nel mezzo con sguardo ornitologico individuò subito il libro sbagliato tra le mani di Olaf vuole studiare storia su questo libro Johansson infatti la geografia è strettamente connessa agli effetti storici potrebbe usarli entrambi ma ora necessitiamo del libro di storia ce l'ha chiese con aria ironica e supponente le guance di Olaf si colorarono di porpora ed il ragazzo pofonchiò deboli scuse ecco ero di fretta ho fatto confusione il professor Larsen assunse un'espressione fintamente dispiaciuto la fretta è una cattiva consigliera sono costretto ad apporle un demerito sul registro stia più attento quasi in contemporanea con quella di Anna si udì una voce provenire da un banco sul fondo della classe ma professore si trattava di Lucas un altro suo grande amico e chissà da come si guardavano forse avrebbe potuto diventare qualcosa di più assieme ad Olaf Paul e Thorsten faceva parte dei componenti maschili della compagnia di Anna c'erano poi altre due ragazze Astrid e Britta tutti intorno ai 14 anni e mezzo sinceri e solitari fra loro compagni di giochi dai tempi della forscola la scuola materna tranne Lucas arrivato a Gottenland qualche anno dopo gli occhi del merlo agitato si strinsero come a mettere meglio a fuoco le immagini dei due disturbatori oh ma ecco i paladini della giustizia facciamo silenzio signorina Lindgren e signora Agerlund non vorrei che i due meriti diventassero tre i ragazzi non andarono oltre ma di certo la bori e la perfidia di Theo Larsen sarebbero state argomento di conversazione al termine delle lezioni il racconto della guerra di Kalmar non stava stimolando particolarmente le orecchie di Anna fino a quando non si dì nominare Liu Skog l'immenso e intrigata foresta di apeti che segnava il confine fra cielo e terra a nord ovest di Gotenland considerata un territorio proibito gli adulti mettevano allerta ai bambini su quanto fosse pericoloso addentrarsi in quel groviglio di alberi e arbusti circolavano storie di persone inchiottite da caverne che incautamente si erano azzardate ad esplorare e poi e poi c'era quella leggenda affascinante e trepida che parlava di strane luci e presenze provenienti da chissà quali mondi occulti l'invasione da parte di un folto gruppo di danesi venne struncata nei pressi di Liu Skog da valorosi soldati di Gotenland e altri del vicino paese di Maastricht la lezione di storia stava terminando ed Anna si affrettò ad alzare la mano professore posso farle una domanda mi dica uno studente partecipe costituiva sempre motivo di orgoglio i racconti che si tramandano da generazioni dicono che in realtà tutti i soldati furono messi in fuoco da esseri esoterici somiglianti ad enormi cani che emettevano lampi di luce i militari furono talmente terrorizzati da non voler tornare mai più in quel luogo ed allora fu vietato a chiunque di entrare nella foresta che prese proprio il nome da questo evento spiegò alla ragazza in modo coinvolto ed appassionato nonno corrad le aveva narrato tante volte quella specie di favola fantastica e nel contempo paurosa e lei aveva trascorso notti intere a sgrudare dalla finestra della sua stanza la lontana foresta delle luci sperando di scorgere i bagliori dai mille colori che provassero l'esistenza dei magici cani luminosi Larsen si sentì demoralizzato aveva fatto male a sperare in una domanda strettamente legata alla sua interessante lezione e alzò gli occhi al cielo signorina Lindgren queste si definiscono leggende e nulla hanno a che fare con la vera storia spesso concluso l'orario scolastico la compagnia di Anna autobatteggiatasi 7forever si ritrovava all'interno di un piccolo parco poco frequentato non lontano dall'istituto Britta fu la prima ad arrivare capelli color miele poggiati alle spalle intensi occhi nocciola costriature dorate e fisico forgiato dalla danza classica amava sorridere ed il suo umore era sempre pressoché sereno nonostante la sua giovane vita non fosse iniziata in modo facile Britta aveva perso in un terribile incidente entrambi i genitori all'età di 4 anni ed allora era stata affidata alle cure dei nonni materni che avevano cercato e cercavano tuttora di donarle un'esistenza il più lieta possibile e visto il carattere disteso della ragazza forse ci erano riusciti almeno l'apparenza sei qui da sola la domanda arrivò a Britta secca come uno sparo ma non c'era da stupirsi visto che l'aveva pronunciato Thorsten corti capelli neri e corporatura atletica perennemente pronto a risolvere i conflitti con una rissa delicatezza pare a quella di un grizzly eppure sempre in prima linea per difendere i propri amici da qualsiasi minaccio Britta gli sorrise ciao Thorsten sì sono stata la prima ad arrivare però vedo un avvicinamento Astrid e Paul Astrid e Paul erano gemelli capelli biondissimi ed occhi azzurri come il mare all'alba lui un ragazzo opposato ed accorto molto interessato ad approfondire qualsiasi argomento dall'informatica alla psicologia perennemente insoddisfatto del proprio sapere che riteneva nulla in confronto alla vastità delle informazioni globali Astrid invece era la classica bella ragazza quella che quando passa riceveva un'occhiata ammirata o invidiosa da parte di tutti maschio e femmine molto conscio della sua bellezza mostrava forse qualche anno in più rispetto alla sua giovanità anche negli atteggiamenti a volte tendeva ad essere troppo vanitosa ed un tantino superba rendendosi un po' antipatica lei e Thorsten con i caratteri poco inclini alla tolleranza erano le due personalità che spesso facevano nascere qualche pattibecco nel gruppo ma alla fine l'amicizia dei Seven Forever non era certo messa in discussione e la piccola gombricola era davvero affiatata ciao quasi sospirò Astrid spostando con gesto studiato della mano i lunghi capelli leggermente ondulati mentre sedeva su una panchina di legno rovinata dall'umidità dietro di noi c'erano Anna Lucas e Olaf aggiunse con voce cantillenante e infatti i tre erano in arrivo con passo veloce discutendo nel frattempo sul modo di fare disponente del professor Larsen ecco si stava lamentando Olaf stamattina ho corso come un forse andato per niente alla fine una nota l'ho presa lo stesso l'hai presa perché Larsen è una carogna è assurda una nota per aver sbagliato il libro poteva darti la possibilità di andarlo a prendere sentenzione Lucas occhi scuri e capelli castani mossi e selvaggi eppure morbidi come lui carattere deciso e analogamente ad Anna fa odore della giustizia a volte ribelle ma anche tanto sensibile alle sofferenze altrui io quel merlo non lo sopporto intervenne la ragazza oltre ad aver trattato male Olaf avete sentito cosa mi ha risposto? tutte leggende disse Britta cercando di imitare i movimenti a scatti del professore Anna e Lucas fecero una faccia perplessa sì vero la leggenda dei cani luminosi non aveva alcun fondamento basato su dati incontestabili eppure una storia di centinaia di anni pregna di mistero e di probabili verità non poteva essere scartata in modo tonto superficiale io non conosco bene la vicenda ammise Olaf cioè ovviamente vi ho ascoltati molte volte mentre ne parlavate ma mi è sempre sembrata una favola Anna rimase spallordita ma dai invece è una storia vera e importantissima addirittura ha influito su certe scelte degli abitanti di Gotenland ad esempio pensa che hanno deciso di costruire il centro commerciale in direzione quasi opposta alla foresta di Luskog proprio per starne lontani ah non lo sapevo si stupì il ragazzo ignaro del fatto colmiamo subito la profonda lacuna decise Lucas sorridendo anche lui grande conoscitore della storia la prima parte è quella che ha raccontato Anna in classe e proprio per quel motivo la foresta rimase inesplorata per secoli poi verso la fine del 1800 alcuni viaggiatori coraggiosi provarono ad addentrarvisi e qui comincia la riprova del mistero gli occhi dei sei amici erano puntati in fremente attesa sul compagno che continuò pare che gli esploratori confermarono le rivelazioni dei soldati provenienti dalla Danimarca ma soprattutto di quelli svedesi abitanti di Gotenland e Maastricht parlarono di caverne senza fine zone ruggiose impervie ed invalicabili piccoli ruscelli stranamente caldi ma soprattutto eventi oscuri e spaventosi l'apparizione improvvisa di strani fuochi brusche e rapide tempeste di vento e poi il ragazzo si fermò per una pausa pezzetto e poi creature mostruose simili ad enormi cani ricoperte da luci abbaglianti rivelò accompagnando le parole con ampi gesti delle mani come se fosse stato in grado di compiere una magia e far apparire dall'Etre un grande cane luminoso wow esclamò Olaf incantato sicuramente anche quegli uomini furono costretti alla fuga immagino bene Britta si aggiunse Anna e si dice che in alcune notti particolari prive di luna e profondamente silenziose alcune persone dotate di straordinaria sensibilità possano intravedere dei chiarori e dei lampi di luce appena al di sopra delle cime degli alberi di Ljuskog sono i cani luminosi che vogliono far emergere la propria presenza ma nessuno ne conosce il motivo forse sono dei messaggi in codice per altre creature chissà da dove provengono quei cani si chiese Lucas ponendo come dato di fatto la loro esistenza bolla si strofina al mento potrebbero avere attenanza con gli animali che conosciamo noi ed hanno avuto un'evoluzione particolare forse per un tipo di erba rara che si trova solo nella foresta delle luci ipotizzò oppure sono gli ultimi esemplari di animali preistorici che debbano nascondersi per sopravvivere si possono sopporre tantissime cose astrid sospirò annoiata dai ragazzi davvero non crederete a queste fantasie anche se insopportabile in questo caso sono d'accordo con larsen cani luminosi chissà se funzionano a batterie carina la battuta commentò Olaf ritento però questo racconto mi piace un sacco di nuovo Anna e Lucas si guardarono comprendendosi all'istante per loro era impossibile ironizzare su quella vicenda la ritenevano troppo seria anche perché se ancora molte persone ritenevano pericoloso addentrarsi nella foresta delle luci un fondo di veridicità poteva considerarsi realistico possibile che si trattasse solo di superstizione io difficilmente mi trovo d'accordo con i pensieri del professore di storia intervenne Britta e questa non è una leggenda ma un avvenimento che forse non potrà mai essere verificato purtroppo e a proposito di larsen mi spiace Olaf per quella nota che ti ha dato solo per perfidia il ragazzo a noi corruggiato grazie Britta proprio non ci voleva un demerito significa dover recuperare i crediti dovremmo essere più uniti quando larsen esagera suggeri bolla sì la prossima volta ci faremo sentire anche noi si animo Britta abbiamo fatto male a docere Thorsten avrebbe voluto risolvere la questione a suo modo altro che i suoi discorsi e la darei io una lezione sono sicuro che dopo abbasserebbe tutte le sue piume in secchite ma no cercò di placare la polemica Olaf in qualsiasi modo poi avreste preso tutti una nota Anna scosse la testa no no hanno ragione Britta e Paul solo uniti potremmo contrastare i soprusi di larsen ok rispetto per i prof ma farci sopraffare mai dovremo trovare un modo per fermarlo parliamone con la classe propose Lucas del resto questo è un argomento che riguarda tutti giusto approvò laconicamente Astrid cosa ne dite se domani dopo pranzo organizziamo una breve riunione con tutti i nostri compagni ci penso io se volete si offri Anna il resto della compagnia si mostrò d'accordo bene e allora 7 forever 7 forever gridò il gruppo alzando un braccio con l'indice puntato verso il cielo Anna tornò verso casa con mille pensieri chissà se nascoste nella foresta vivevano davvero delle strane creature con sembianze di cane e come mai Lewis Cog era ritenuto ancora un posto proibito ovviamente in anni recenti qualcuno si era addentrato a curiosare fra gli abeti secolari in quanto non esisteva un vero e proprio divieto di accesso ma probabilmente non era penetrato nel fitto degli alberi oltre a una certa soglia alcuni ne avevano parlato come di un normalissimo bosco come tanti nella zona anche se più buio ed intrigato cosa che in effetti incudeva un certo timore ma nessuno era stato spaventato da strane creature eppure analizzò Anna i pochi esploratori che avevano deciso di conoscere meglio quel bosco quasi inviolato una volta usciti non vi avevano più fatto ritorno a quanto pare la sensazione di timore a cui accennavano non era poi così debole ricordava una storia che le aveva raccontato il padre 4 o 5 anni prima lei era ancora una bambina ma se non sbagliava i particolari erano molto simili a tutto ciò che si andava dicendo appena possibile gli avrebbe chiesto di raccontarla di nuovo e chissà piano piano mettendo assieme tutte le tessere avrebbe potuto ricostruire il puzzle o almeno una parte di esso e poi era anche dispiaciuta per Olaf non si era certo meritato quella nota ed il prof Larsen non poteva approfittare in quel modo tirannico della sua posizione nella gerarchia scolastica i 7forever avrebbero dovuto pensare ad un piano strategico che coinvolgesse tutta la classe uniti sia più forti ed è più facile far valere i propri diritti la ragazza infilò la chiave nella serratura aprendo una pesante porta di legno massiccio l'accolse il bel tepore della grande casa accogliente dove viveva con i genitori di nonni appese all'attaccapagno ottonato il giaccone bianco ancora freddo dell'aria esterna tolse gli stivaletti foderati di pelo e boggiò lo zaino su di una vecchia cassa banca restaurata da nonno Collot il padre di suo padre in cucina nonna cunilla stava mescolando sul fuoco un brinco di cioccolata calda nonno esclamò Anna usando quel buon profumino che bella idea e corse a darle un bacio lei sorrise alla sua amata nipote e accolse con piacere quel bacio con lo schiocco senza però smettere di ricerare il cucchiaio di legno nella crema che si stava addensando una buona cioccolata ricca e fumante per la mia Anna si compiacque l'anziana signora ancora molto in gamba e sempre elegante oggi è una giornata bella ma freddissimo ci vuole proprio qualcosa che ti scaldi tutta corri a metterti i vestiti comodi che è quasi pronta Anna salì i gradini a razzo per raggiungere in fretta la sua stanza e si cambiò rapidamente senza dimenticarsi di lanciare un'occhiata verso gli oscog dalla sua finestra poteva vedere l'imponente foresta espandersi dalle pendici del monte a cui dava il nome fino alla sua cima recuperandolo interamente a ben guardare in una limpida giornata come quella tutte le migliaia di alberi strettamente uniti in intrigati a bracci potevano sembrare soltanto un enorme ma ordinario bosco di apeti tipicamente svedese ma lei era certo che nascondesse nella sua parte più interna ed intima un enigmatico e fantastico segreto quante volte aveva digitato sui motori di ricerca cani luminosi lius cog ma le informazioni che apparivano non avevano aggiunto nessuna novità rispetto a ciò che già conosceva anzi molte notizie erano palesemente dei fake addirittura una persona aveva chiesto i danni al comune di Gotenland perché è morsa da un cane randaggio sicuramente discendente delle pelve spietate di lius cog ovviamente poi si era scoperto che il cane disorientato e intimorito era scappato da un camioncino di un trasportatore di bovini di passaggio sul rixvac la strada stata all'esterno per non parlare poi del tizio che affermava di essere venuto dal futuro per ritrovare i cani luminosi rubati da uno scienziato senza scrupoli e per farlo aveva bisogno di ingenti finanziamenti guarda un po' no no alla fine le migliori conoscenze erano quelle che aveva raccolto fino a quel momento direttamente da persone affidabili come papà Christopher e soprattutto nonno era stato grazie ai loro racconti brevi di fantasticherie che era cresciuta in lei la convinzione che Lewiscock non fosse solo una leggenda ma una realtà tutta da scoprire non si contavano più le notti che aveva trascorso vegliando su quella macchia scura all'orizzonte sperando di scorgere i tenui pagliori simbolo della presenza dei cani luminosi il profumo della cioccolata calda raggiunse anche la sua stanza ed Anna non poteva resistere si fiondò in salotto dove era certa che Corot l'avrebbe attesa per gustarne una tazza insieme e infatti ecco il caro nonno accomodato sul divano a piccoli fiori di fronte a lui sul basso tavolino in legno scuro nonna cunilla aveva già poggiato il bassoio con due grandi tazze colme della dolce bevanda e qualche biscotto alla cannella la ragazza sorrise il nonno le dava sempre una bella sensazione di serenità e sicurezza sia per il suo carattere saggio e pagato che per l'aspetto fisico era tale quale al nonno del cartone animato di Heidi Anna l'accolse lui vieni c'è una buona merenda lo so lo so rispose contenta mentre si sedeva già con la tazza in mano dopo i primi sorsi e qualche biscotto Anna cercò di approfondire il discorso che tanto l'appassionava nonno so che me l'hai raccontata tante volte ma ti andrebbe di dirmi ancora qualcosa sulla leggenda di Lewis Kog stamattina ho provato a parlarne con il professore di storia ma lui l'ha liquidata come una stupida fandonia completamente inventata corrod mise la tazza sul vassoio immagino Anna conosco Theo Larsen è cresciuto a Coteland e non mi sembra il tipo che creda in facciante che non siano supportate da prove concrete e inconfutabili già confermò Anna con una smorfia il nonno si sborse un pochino verso la nipote come sai io non penso che questa storia sia completamente frutto di una fantasia che motivo avrebbero avuto quei soldati di raccontare qualcosa che ovviamente sa di assurdo mettendosi poi in cattiva luce con i loro superiori più di quanto già non lo fossero visto che in fin dei conti la loro missione era fallita i militari devono avere atteggiamenti consoni alla loro carica non possono andare in giro a raccontare sciocchezze a quei tempi poi ricordiamoci che si trovavano nel 1600 sotto il neo che tempi erano chiase Anna interessata a scuola avevano parlato in modo poco approfondito del modo di pensare e di vivere in quel periodo solo nozioni legate ad eventi bellici era difficile proiettarsi col pensiero all'indietro in un tempo così lontano il nonno stava per proferire parola quando la ragazza sentì vibrare il telefono che teneva nella tasca della felpa guardò lo schermo era Lucas sentì una specie di sfarfallio nello stomaco le succedeva sempre quando quel ragazzo era accanto a lei o anche solo nelle vicinanze a volte bastava appena sentirlo nominare era una sensazione emersa man mano negli anni poco descrivibile che un po' le metteva a piacere ed un po' la turbava ciao Lucas lo salutò sperando che tutte quelle emozioni mafiorassero sul suo viso esposto allo sguardo sorgnone del nonno dimmi dall'altra parte ci fu una lieve esitazione per caso stavo passando davanti a casa tua e mi sono chiesto se avevi voglia di parlare di quello che è successo oggi in una frazione di secondo Anna realizzò che l'avrebbe trovata in abiti decisamente casalicchi troppo sì sì volentieri vieni ti apre mio nonno accettò guardando subito verso di lui e simulando un'espressione implorante poi volò nella sua stanza per indossare almeno un paio di jeans ed un bel maglioncino color crema con piccoli disegni a stelline marroni che dal collo si ramificavano verso le spalle un ultimo sguardo allo specchio per controllare di non avere baffi di cioccolata escese nuovamente in salotto Lucas era lì seduto dove era stata lei fino a pochi minuti prima il volto leggermente arrossato dal freddo ed i capelli mossi che incornigiavano il viso dagli zigomi alti e gli occhi scuri dallo sguardo fiero che bello pensò sentando ancora quella morse allo stomaco assomiglia al leader di un gruppo degli anni 80 di cui mi parla spesso mia mamma mi sembra il ragazzo aveva un anno in più di tutti gli altri amici della compagnia il padre era un diplomatico che lavorava per il ministero degli esteri svedese e per un lungo periodo la moglie Inge lo aveva seguito nel suo girovagare per il mondo portando poi anche Lucas non appena nato da un lato era stato bello ed aveva conosciuto tante realtà ma dall'altro si era sentito sballottato come una valigia senza mai il tempo di legarsi davvero a persone e luoghi sapeva di essere stato in India Italia e Grecia ma essendo molto piccolo aveva ricordi vaghi quello che era meglio impresso nella sua memoria era l'ultimo periodo trascorso da terra con sua grande gioia nel giardino della residenza diplomatica aveva potuto accudire tanti gattini e nei weekend andava sempre al mare con mamma e papà questo fino a 6 anni poi sua madre aveva deciso di dare più stabilità alle loro vite almeno alla sua ed a quella del figlio e loro due erano tornati in Svezia stabilandosi nel paese natale della mamma Gottenland Lucas incominciò a frequentare la scuola con un anno di ritardo ma avendo ricevuto un'istruzione privata sapeva già scrivere e leggere molto bene il padre invece aveva continuato la sua professione che lo portava in paesi lontani e tornava a casa saltoriamente per brevi periodi nell'ultimo anno non era tornato mai e le sue telefonate si erano fatte molto sporadiche a volte il figlio ne sentiva la mancanza o quantomeno avrebbe desiderato sentirlo più spesso ed avere lui un punto di riferimento invece aveva dovuto responsabilizzarsi presto mamma Inge aveva aperto un negozio di fiori al quale dedicava gran parte della giornata ed anche se non poteva definirla una madre completamente assente non avrebbe nemmeno potuto affermare di poter contare spesso sulla sua vicinanza e comprensione chissà forse si sentiva solo con un marito che dopo tutto non si sapeva se ancora lo fosse o meno anche a Lucas era stata offerta una tazza di cioccolata e la stava sorseggiando chiacchierando con il nonno Conrad eccomi si annunciò Anna con un sorriso Lucas guardò la ragazza sollevò gli angoli della bocca e gli occhi gli brillarono spero di non averti disturbato quasi si scusò ma dai figurati anzi il nonno mi stava giusto raccontando più dettagli sull'Uskog vero? mi dicevi nel 1600 gli ricordò accomodandosi con le gambe incrociate su una poltrona accanto all'amico si stavo dicendo che il 1600 è stato un secolo di tante guerre in Europa contraddistinto dalla famigerata caccia alle streghe Lucas a noi ne ho sentito parlare erano tempi molto bui esatto riprese Conrad già nei secoli precedenti era nata l'idea che esistevano queste persone donne soprattutto ma a volte anche uomini che con le loro arti magiche e misteriose provocavano malefici di tutti i generi vere congiure capale contro un singolo o addirittura contro l'umanità chi veniva tacciata come strega era perseguitata arrestata e solitamente messa a roco bruciata annascrano gli occhi e mise le mani sulle guance purtroppo sì continuò il nonno era un pregiudizio molto radicato a quei tempi e perciò chi diffondeva notizie come quella dei cani luminosi doveva stare molto attento perché avrebbe potuto essere identificato come una persona investita dal maleficio di una strega o la seressa stessa accusata di stregoneria ecco perché suppongo che i soldati non avessero avuto alcun interesse di inventarsi una storia simile ma si sa che fine fecero quei soldati chiese Lucas partecipe il nonno scosse la testa no ci sono varie ipotesi ma chissà qual è quella veritiera c'è chi dice che furono arrestati e lasciati in prigione fino alla fine dei loro giorni c'è chi dice che furono ascoltati e creduti da Gustav che decise di proteggerli mandandoli a vivere in un paese lontano sotto false identità altri racconti dicono che i soldati impazzirono dopo quella terribile esperienza e vagarono per anni come mendicanti insomma non c'è un'unica versione però la versione che riguarda l'incontro con il cane o i cani luminosi è coincidente più o meno è sempre quella quindi io credo che ci sia un grande fondo di verità decise Lucas Anna percepì una forte sintonia con l'amico sono assolutamente d'accordo con te confermò determinata bene ragazzi disse il nonno mentre si alzava dal divano se avete bisogno di me sono sempre disponibile ora vado a fare qualche lavoretto nella mia piccola falegnameria buona serata Lucas salutami tua mamma Anna e Lucas si ritrovarono da soli che storia esclamò il ragazzo se fossimo coraggiosi potremmo provare ad addentrarci al New Skog lo stuzzi con lei Lucas capì il trucchetto e sorrise se fossimo siamo coraggiosi poi alzò un sopracciglio con aria maliziosa vuoi forse propormi qualcosa Anna arrossi un po' lei sembrava che quella domanda avesse un leggero doppio senso ma no si rispose da sola in effetti se ben attrezzati potremmo esplorare la foresta mi attira tantissimo lo sai anche a me potremmo arrivare dove nessuno si è mai spinto e scoprire il perché di tanto mistero pensi che il resto dei 7forever sarebbe d'accordo chiese lei Lucas si grattò la testa non so Astrid potrebbe rompersi un'unghia smaltata e sarebbe una tragedia i due scoppiarono in una sonora risata la convinceremo affermò sicura Anna bene 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 io ti ricordo di andare a controllare nell'info box il link per preordinare questo libro ed aiutare serenello sindaco la scrittrice della storia a raggiungere l'obiettivo per arrivare alla stampa del romanzo è possibile ordinarlo di ricordo sia in versione cartacea che in versione ebook non importa e ovviamente tutte le persone che lo ordineranno lo preordineranno potranno leggere la bozza per intero detto questo non mi rimane che salutarti spero che il video sia stato rilassante e che tu possa addormentarti tranquillamente adesso noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi ciao 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 Grazie.